ciao ragazzi partiamo tra un minuto ciao ciao ragazzi buonasera a tutti sono Matteo Petaluga fatevi sentire in chat se siete carichi se siete gasati fatemi un saluto io vi saluto back vado al volo anzi passo la parola a Fabio Gallerani se ci sei ci sei Fabio eccoci Dino Tamburini, Claudio, Antonio, Corina, Daniele, Massimo Padula, Arianna, Orietta, Fabio passo la parola a Fabio al volo e verifico se su Facebook è tutto a posto vai Fabio eccomi qua grandi ragazzi benvenuti al webinar del giovedì dopo l'evento di Roma siamo tutti carichissimi dopo uno degli eventi più belli mai visti sul suono italiano chi c'era sbatta un commento nei commenti qui nella chat se mi stai ascoltando su Facebook spara un commento a caso nel live condividi questo live tag a 5 persone e andiamo viral allora come sempre questa sera parliamo di digital marketing e di come puoi entrare a far parte di marketing genius ormai il movimento di persone normali che diventano straordinarie utilizzando internet più potente a questo punto in Italia ma in Europa sinceramente non ho visto gli altri quindi siamo i più potenti in Europa ufficiale in questi giorni abbiamo avuto parecchi contatti con altri influencer che confermano il fatto che stiamo sulla giusta strada importanti ospiti d'oltreoceano ci stanno guardando con la lente di ingrandimento pronti a venire al prossimo evento e siamo strafelici per quello che stiamo facendo abbiamo visto le lacrime agli occhi di tante persone grandi emozioni quando la vita cambia davvero il messaggio è puro come dico io non c'è niente che ti può affermare quindi se sei parte di MG sei un grande se non sei ancora uno degli all-inners allora ascolta questo webinar perché potrai scoprire come diventarlo oggi stesso finita tutto ok? in tutto apposto sto andando a condividere il post e il video anche su Facebook ragazzi siamo in simultanea siamo su YouTube live sul mio canale siamo su tutti i gruppi di marketing genius in questo momento esattamente mentre clicco stiamo andando virali in giro per il web allora ragazzi se non mi conoscete è la prima volta che entrate in contatto con me e con Fabio io sono Matteo Petaluga e Fabio Gallerani e qui con me siamo i fondatori di marketing genius ora in questa presentazione spiegheremo un po' cosa è marketing genius ma essenzialmente noi abbiamo due obiettivi questa sera il primo è spiegarti chiaramente cosa facciamo noi marketing genius che cosa offriamo, qual è il nostro progetto e il secondo obiettivo soprattutto è darti informazioni pratiche che ti possono aiutare a costruire il tuo business su internet o a promuovere un business che già hai su internet essenzialmente i tipi di persone che arrivano da noi sono in due situazioni diverse però allo stesso tempo simili perché? perché sono persone che vogliono capire come dominare il web ci sono persone che hanno già un proprio business quindi hanno già capito come muoversi che cosa promuovere sul web che strategie utilizzare magari insomma hanno un po' più le idee chiare e hanno un qualcosa da promuovere e poi c'è un altro tipo di persone che sono quelle che sono attratte in qualche modo dal mondo di internet sono curiose sul web ma non hanno idea di come iniziare e io ero un po' in quella situazione cioè volevo in qualche modo lavorare da casa volevo avere l'abilità di viaggiare per il mondo di spostarmi di avere un qualcosa che mi potevo portare con me tutto il tempo ma non sapevo come iniziare quindi se hai già un business fai molta attenzione ti insegneremo come moltiplicare le vendite come avere persone che ti chiamano e ti tirano i soldi perché noi sembra fantascienza sembra magia nera ma per noi questo qui è una giornata normale a trarre contatti a trarre persone interessate a quello che facciamo e chi invece non ha un business ti spiegheremo come partire online con le tecniche che funzionano per aprire il tuo business su internet anche se non hai niente da promuovere quindi se Fabio mi dai l'ok e mi confermi che è tutto a posto vado a condividere le slide la mia voce ragazzi andrà via per un attimo ma tornerò dopo un minuto vado Fabio? vai vai ok, arrivo subito ok, chiedo conferma mio caro socio se mi sentite ma penso di sì cosa dici Fabio? no faccio partire ok allora ragazzi il nostro obiettivo come detto in questo webinar è mostrarti il metodo giusto per fare i soldi online con qualsiasi tipo di business tu possa avere e anche svelarti tre cose tre segreti che sono quelli che ti aiutano a generare contatti e vendite potenzialmente senza limiti come ti dicevo per chi è nuovo ti sembrerà assurdo ma ti garantisco che è possibile creare un business online e non c'è bisogno di conoscenze tecniche quindi demoliamo questa barriera non bisogna essere bravi con il computer perché la programmazione e il marketing sono due scienze diverse sono due cose completamente diverse ti sorprenderà questo ma i sistemi sono già pronti per te quello che devi imparare è semplicemente come dominarli io lo dico sempre su Facebook per esempio tu puoi essere un consumatore puoi essere un utente o puoi essere un marketer quindi puoi essere dalla parte di chi spende soldi e basta noi spendiamo sempre soldi ma non impariamo mai a farli e fare soldi su internet è una scienza ti mostreremo come farlo in pochi e semplici click e per chi già lavora online quindi se hai già un po' di esperienza ti faremo vedere il nostro metodo e capirai come decuplicare almeno moltiplicare per dieci i tuoi contatti e le tue vendite quello che ti serve però che è un po' il concetto base secondo me voglio partire da un po' più indietro quello che ti serve è attrarre contatti generare contatti di persone che ti seguono che ti trovano e l'unico modo per generare contatti infiniti attraverso un sistema automatico perché? perché tu fisicamente non puoi andare a chiamare la gente prendere i numeri molestare le persone ci vuole qualcosa di automatico che sia una macchina che bisogna delegare questo stress a un sistema e questo è Marketing Genius quindi per me questa è la base di tutto la base è attrarre persone fare in modo che siano loro a venire da te e questo vale per tutti i settori spesso una domanda che ricevo è questa Matteo io ho un'agenzia immobiliare Matteo io ho un negozio Matteo io ho un progetto di business io ho un'idea Matteo io voglio fare l'influencer Matteo io voglio vendere prodotti di perché? perché i contatti sono la linfavitale del tuo business se tu non hai gente che ti trova non vai da nessuna parte tu puoi avere il miglior prodotto in mano ma se non hai gente che ti trova non ha assolutamente senso quello che fai ok? puoi avere la roba più figa per le mani ma se nessuno ti trova rimani a zero vendite ok? e vediamo un po' cosa è marketing genius io definisco marketing genius due cose allo stesso tempo siamo una piattaforma di formazione quindi siamo un sito web con centinaia di video dedicati al mondo dell'internet marketing quindi un percorso che da zero veramente ti porta a capire come fare soldi su internet come creare un prodotto e venderlo o come promuovere qualcosa che già hai io mi sono reso conto quando ho creato marketing genius un anno fa è che quello che manca sul web è un sistema logico e sequenziale e non solo di informazioni ma anche di pratica soprattutto pratica bene marketing genius è cento per cento pratica su come lavorare online partendo dalle basi fino a livelli anche molto avanzati e allo stesso tempo siamo un'opportunità di business perché puoi fare soldi lavorando con marketing genius ti spiegherò queste due cose questa sera ora passo la parola a Fabio che ti racconta un po' chi siamo e perché dovessi ascoltarci prima di entrare nel video del webinar vai Fabio eccomi qua grazie Pitta allora grazie per questa super intro allora chi siamo perché dovessi ascoltarci se ci hai mai visto online più o meno ci hai imparato a conoscere ma devi sapere un po' cosa abbiamo combinato negli ultimi tre anni negli ultimi tre anni abbiamo deciso che non esisteva opportunità più grande che internet per poter aiutare le persone là fuori poter materializzare qualsiasi progetto che avevamo in mente chiaramente volevamo fare gli imprenditori da anni ma non capivamo come iniziare c'è un po' questo mito falso che per farli imprenditori devi avere grossi capitali e soprattutto vieni scoraggiato alla fonte da persone che hanno già fallito beh guarda un po' se ti scordi che esistono haters e persone negative intorno a te allora puoi utilizzare internet come l'abbiamo fatto noi negli ultimi tre anni partendo da zero grazie alla guida giusta grazie a grandi esperti che abbiamo pagato tantissimo per aiutarci ad imparare come muoverci nel mondo del marketing digitale abbiamo lavorato nei tre settori più importanti che sono quelli del network marketing perché volevamo sbloccare un po' craccare il codice del farcela in questo settore in cui sembra che il 99% delle persone falliscono ma poi perché? perché non hanno più contatti quindi grazie a internet abbiamo sponsorizzato oltre 4.000 prime linee in vari network marketing addirittura oltre 500 in sei mesi a volte abbiamo lasciato questo mondo da circa un anno perché avevamo già raggiunto il top non c'era più sfida e avevamo raggiunto il nostro obiettivo comunque questo è stato un risultato pazzesco perché è stato fatto senza prendere in mano il telefono senza rompere le palle di amici e parenti è creato quindi un'organizzazione addirittura da un'altra parte del mondo e questa è stata la prova estrema finale per capire se la generazione di contatti forse veramente è quello che mancava in questo settore risolti questi problemi si siamo buttati nel mondo dell'affiliate marketing nel mondo dell'e-commerce abbiamo generato decine di migliaia di vendite online per vari siti di e-commerce dai negozi di abbigliamento a negozi di sportivi a eventi addirittura abbiamo siamo riusciti ad entrare in un mercato difficilissimo di eventi nelle isole Baleari e Ibiza senza avere grossi capitali semplicemente lavorando bene su Facebook addirittura con budget così bassi che sono quasi difficili da credere fatturato da solo 450 mila euro di vendite per una sola azienda vuol dire che abbiamo aiutato un'azienda un caso studio ad aumentare il fatturato di questa cifra in sei mesi semplicemente automatizzando il loro business online e di conseguenza l'ultima nostra sfida è stata appunto aprire marketing genius portare il digital marketing nelle mani delle persone normali per farle diventare straordinarie quindi ha aiutato centinaia di persone in realtà sono migliaia oggi in marketing genius ci sono 15 mila persone e questo l'abbiamo fatto grazie a internet e grazie al potere della condivisione abbiamo deciso di condividerlo con tante altre persone si è appena concluso l'evento di marketing genius questo era l'evento di Rimini di settembre domani usciranno le foto sono ancora più pazzesche qualcuno alla fine tra poco perfetto le ha già messe Matteo sono arrivate le prime foto e abbiamo deciso di creare un movimento un movimento di persone che utilizzano internet per uscire dalla crisi depressiva psicologica o anche concreta molti imprenditori hanno bisogno di sapere come muoversi su internet e abbiamo trovato la nostra missione quello che ci fa sentire felici il nostro messaggio così puro che arriva là fuori come un laser ed entra nel cuore delle persone perché non lo facciamo per soldi lo facciamo perché vogliamo creare qualcosa di così grande che non è mai stato creato prima ci stiamo riuscendo perché là fuori penso che non ci sia nessuno che possa essere a livello di quello che stiamo facendo adesso soprattutto perché abbiamo appena iniziato siamo a livello italiano ma parliamo tre lingue e lo faremo a livello mondiale questa è una foto dell'ultimo evento di Roma con alcuni dei partecipanti le persone provano chi c'era a Roma ragazzi sfondate sfondate la chat di commenti chi c'era a Roma quanto vi è piaciuto fatelo sapere nei commenti la cosa pazzesca dell'online è che tu hai l'impressione di conoscere persone che non hai mai visto prima quando la incontri in un evento così e questo è successo proprio all'evento di Roma quando le persone si sono incontrate dopo mesi che ci incontravano solo online e si sono sentiti parte di qualcosa che è molto più grande di un'accademia di digital marketing perché in questo posto tu impari a lavorare su internet ma impari anche a fare contatti a trovare gente che ti cambia la vita e sempre più grandi professionisti in giro per il mondo come puoi vedere in questa foto la persona al centro è uno dei più grandi speaker dal mondo è venuto a supportare marketing genius e adesso è così infuocato che ha detto che torna negli Stati Uniti e si porta dietro tutti altri super super leggende del settore del business internazionale per venire al prossimo evento quindi quando il tuo messaggio è puro quando vuoi aiutare le persone allora nessuno ti può fermare però non è sempre stato così ok molte persone cercano la propria missione nella vita non la trovano mai io e Matteo abbiamo iniziato cambiando vita io avevo 21 anni lui 23 ci siamo trovati negli Stati Uniti entrambi laureati molti laureati vanno là fuori e rifiutano qualsiasi lavoro e dicono che non c'è lavoro guardate queste foto due laureati che se ne vanno a pulire le posate negli Stati Uniti perché avevano un'ambizione così grande che se ne fregavano della negatività delle tristezze nell'aria si volevano mettere in gioco e hanno pagato il prezzo che abbiamo pagato il prezzo abbiamo lavorato duro per anni tra Stati Uniti e Spagna abbiamo continuato a cercare quello che ci piaceva fare non sapevamo assolutamente cosa fare nella nostra vita volevamo aiutare gli altri a scoprire che fosse possibile fare qualcosa di straordinario siamo passati attraverso vari settori fino a quando un giorno nel 2012 abbiamo trovato un settore che sembrava voler aiutare le persone che è il network marketing infatti nel 2012 in settembre mi ricordo ancora quando Matteo Pittaluga viene in camera mia e mi dice senti entro in questo network marketing a caso non sapevamo cosa stavamo facendo semplicemente ci sembrava un bel settore per aiutare le persone ma non sapevamo lavorare ma non sapevamo fare marketing non avevamo più amici perché quanti di voi sono passati nel network marketing e hanno rotto le palle ad amici e parenti con false promesse eccetera quindi è stata un'arma a doppio taglio e la storia continua fra poco però lascio la parola a Matteo adesso c'è la pubblicità no ragazzi c'è una storia incredibile del nostro amico Andrea Perilli che è stato premiato sul palco a Roma tra i top affiliati di Marketing Genius ragazzi è una persona che quando è entrata in Marketing Genius aveva poca libertà un lavoro ripetitivo e stressante e voleva un qualcosa per migliorare la propria vita è diventato top affiliato in Marketing Genius organizza i propri eventi e sta costruendo la strada verso la libertà assoluta in pochi mesi ragazzi Andrea non aveva nessun tipo di esperienza nel mondo online zero mai fatto network mai lavorato con un pc niente ok solamente le cose base per lavorare in un ufficio ok incredibile la sua storia e non è l'unico tra poco ne sentirete altre incredibili ora ci sono tre cose che noi abbiamo chiamato il metodo ATM e queste tre cose qui le devi dominare quindi se vuoi capire come lavorare online segnatele la A sta per automazione di contatti T sta per target M sta per marketing metodo ATM adesso ti spiegherò un po' perché l'abbiamo denominato così ma soprattutto ti spiegherò le meccaniche io ogni cosa che faccio online cerco di automatizzarla cerco di fare in modo che il sistema lavori per me questo è un po' il segreto e online lo puoi fare perché online Facebook Google YouTube queste piattaforme dove noi lavoriamo sono aperte 24 ore su 24 ok quindi tutto quello che faccio io cerco di renderlo automatico vi serve appunto un flusso di contatti che non dipende dal tempo che tu stai dietro al tuo business ti faccio un esempio abbiamo due scenari possibili quando tu entri o apri un business o inizi a promuovere qualsiasi cosa inizi il più delle volte le persone fanno quello che ho fatto anch'io cioè si apre una pagina Facebook invitano gli amici a mettere mi piace e poi sono bloccati ok e allora cosa iniziano a inventarci le cose più assurde tipo andare a spammare nei gruppi rompere le palle alla gente lo so perché l'ho fatto anch'io oppure chi è chi c'è il negoziante o chi apre un'attività inizia a chiamare la gente quindi fare questi chiamati a freddo no o i volantini i biglietti da visita queste robe assurde e io ho capito che invece basta mettere pochi euro su Facebook e posso avere cento persone che vedono un mio post quindi il mio post che io pubblico non so se ci hai mai fatto caso magari qualcuno di voi ha una pagina fan su Facebook tu pubblichi la roba e nessuno ti è come se non la vedessero cioè non li compare davanti a nessuno ma soprattutto la tua roba compare sempre davanti alla stessa gente anche per voi che fate network lo so che siete in vari che fate network collegati questa sera state sempre con il vostro team parlate con il vostro team condividete su Facebook dove ci sono i vostri amici dovete uscire da quel cerchio dovete uscire da quella cerchia di gente come lo fai? beh lo fai attraverso l'automatizzazione di contatti cioè usando dei sistemi come possono essere Facebook YouTube Google ma ce ne sono tanti altri che ti insegniamo e usandoli basta investire in pubblicità pochi euro non servono dei capitali incredibili cioè io sono partito con 2 euro con Fabio siamo partiti con 4 euro di budget una roba ridicola ok e queste persone al di fuori della tua cerchia di amici iniziano a vedere quello che fai e a me quello mi interessa quando io parlo di automazione io intendo avere occhi freschi occhi nuovi di persone che trovano il mio business e questo è automatico in marketing genius ti insegni una tecnica YouTube dove con un centesimo ottieni visualizzazione ai tuoi video un centesimo vuol dire che con un euro quell'euro che tu magari butti per terra o che spendi in un caffè o che butti via incavolati vuoi avere cento persone che guardano il tuo video e non cento persone a caso cento persone in target e tra poco ti parlerò del target ritorniamo però un po' alla storia e a quello attraverso cui siamo passati giusto Fabio? esatto 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 allora quindi abbiamo iniziato l'network marketing perché volevamo aiutare la gente ma non facendo una lira abbiamo deciso di andare dall'altra parte del mondo di nuovo per fare una missione impossibile che era quella di aprire un nuovo mercato perché la realtà è che nel network marketing ci sono regole non scritte e il mondo del network è in realtà un business ok? è business allo stato puro quindi avevamo questa idea di andare in un paese sconosciuto portare il prodotto lì e vedere cosa succedeva beh quello che è successo è che non sapendo fare marketing rompendo le palle questa volta non più ad italiani amici e parenti ma sudamericani abbastanza incazzosi mi ricordo ancora quando Matteo Pittaluga faceva contatti nel parco dietro casa e una volta quasi rischia la rapina indiretta quindi il non fare marketing non solo non ti fa guadagnare ma ti mette in pericolo ok? in quel caso era proprio anche un pericolo serio ok? quindi Matteo in questa foto aveva mollato era arrivato al limite gliel'ho scattato dopo una discussione in cui era veramente demotivato e si mangiava broccoli sconditi perché non aveva manco i soldi per l'olio se non ci credete non so cosa dirvi perché mi ricordo ancora quando nella storia che continua poi abbiamo iniziato a lavorare su internet ha speso gli ultimi 500 euro in pubblicità inutile perché diciamoci la verità quando tu non sai fare la roba pensi che pagare qualcun altro per insegnartela sia qualcosa di sbagliato ok? quindi cosa è successo quella volta? Matteo aveva due opzioni o pagava un corso da un americano molto importante si chiamava Vic Stratius e questa persona però il suo corso lo vendeva a 2000 euro oppure spendeva 500 euro a caso in pubblicità fatta male e li bruciava in una notte beh ha scelto la seconda opzione e quei 500 euro sono spariti nel nulla da quel momento non aveva più opzione mi ricordo ancora quando ho prenotato il volo di ritorno e da lì abbiamo deciso di non fare più l'errore di autoistruirci quando non sapevamo da che parte iniziare e quindi questa è una adesso a Roma nell'evento di Marketing Genius sono saltate fuori altre storie di successo pazzesche ma come non dimenticare una storia come quella di Alessio Paoletti che mi ricordo ancora quando quando a Roma mi ha scritto un messaggio questo sabato mi ha detto scusate se non ci sono Alessio Paoletti aveva un problema non riusciva a riempire il ristorante i suoi prodotti erano ottimi ma non sapeva fare promozione è entrato in Marketing Genius nel 2016 a fine anno nel 2017 è diventato la storia di successo numero uno tra gli imprenditori classici i suoi ristoranti sono così pieni che mi piacerebbe condividerlo adesso ma non ho modo di farlo vorrei leggere vorrei leggere il messaggio vorrei leggere il messaggio che mi ha mandato Alessio sabato sera te l'ha mandato anche te anche a me a me mi ha scritto ma condividi lo schermo faccelo vedere se puoi ma eh si la privacy di Alessio tanto Alessio è felice tanto Alessio è felice mi faccio vedere veramente il messaggio che hai ricevuto da parte di Alessio me l'ha scritto sulla mia fanpage ma sulla mia fanpage è un bordello vado su su Messenger Alessio guardate cosa mi ha scritto hola pitta che figata Roma mi è piaciuto un sacco non poterci essere ma qui ormai nel weekend vengo preso d'assalto e solo sabato mi ha dato via oltre 350 persone lo sai la cosa assurda non trovo le dipendenti pronte ad essere assunti a farsi il mazzo porca troia va bene qui ragazzi mi ha scritto anche in privato e gli scrivo grande stiamo condividendo la storia nel well vabbè io non so Alessio Paoletti quanto abbia fatturato solo andato questo momento lo vedete ragazzi lo vedete Alessio penso di sì lo vedete il profilo questo qui Alessio con la sua norcineria eccolo qui è arrivato nei top di TripAdvisor ragazzi 7000 fan ragazzi nella sua nel suo negozio persone che condividono vedi 21 mi piace 54 mi piace condivisioni clienti che tag sono opere d'arte sono opere d'arte recensione ragazzi recensione c'ha 118 recensioni guardate che facebook ha creato ragazzi questo qui è il nostro amico Paoletti recensioni 5 stelle ok top 5 in TripAdvisor aperto non so se ha aperto il secondo il terzo locale no il terzo per quello non sa più chi assumere quindi se volete lavoro andate a lavorare in Puglia perché Alessio Paoletti non so più dove mettere un'altra cosa interessante che ha fatto Alessio vedete è stato a verificare la pagina facebook vedete come negozio locale questo ti dà più visibilità tutte queste tecniche ragazzi le ha imparate in Marketing Genius e veramente è tanta tanta roba ok ok ufficializziamo pizza che dal prossimo webinar chiamiamo la storia di successo quindi con questa chiudiamo l'apoteosi del successo di Alessio Paoletti perché è stato un esempio per tanti imprenditori che poi sono entrati in Marketing Genius hanno aumentato il fatturato mi ricordo ancora l'evento di Roma quando un altro imprenditore prende il microfono e dice il mio fatturato di gennaio è stato uguale a quello dell'anno scorso quindi internet se tu hai un'attività già avviata ti serve se hai un'idea ti serve perché là fuori c'è gente che ha i tuoi soldi e te li devi andare a prendere ok là fuori qualcuno ha i tuoi soldi e devi sapere chi è e prenderti i tuoi soldi infatti questo è il segreto ti serve un flusso di contatti che arriva a te che però non deve dipendere da quanto tempo stai lì a gestire il tuo business il secondo segreto è quello che diceva Fabio adesso c'è il target chi ha i tuoi soldi i tuoi soldi non ce li hanno i tuoi amici che non gli frega niente di te e del tuo business i tuoi soldi non ce li hanno quelli che ti odiano i tuoi soldi ce li hanno persone che stanno cercando quello che hai da offrire tu ok quindi il segreto numero due è il target devi andare sulla massa assolutamente cioè devi andare su tante persone con il tuo marketing ma allo stesso tempo restringere e andare su quelle giuste ti faccio un esempio se io ho scritto un libro di cucina salutare del benessere e i miei amici bevono e pensano al calcio e si fanno in vena non gli interessa la cucina salutare perché non gli interessa cucinare quindi non è sbagliato il mio prodotto e se tu hai un prodotto se tu hai qualcosa che vuoi lanciare sono certo che non è sbagliato non è colpa tua il problema sono che a queste persone non gli interessa semplicemente quindi il target è il secondo segreto ma il target online è molto più facile ti faccio il paragone tra pubblicità classica e pubblicità online se io metto un cartellone pubblicitario in mezzo ad un'autostrada lo pago una barca di soldi così come magari un cartellone pubblicitario per strada lo pago una barca di soldi così come un annuncio sul giornale ma non posso contare quante persone l'hanno visto e non posso sapere esattamente il pubblico esatto per me cioè se io metto il cartellone in autostrada la gente che passa sotto il cartellone lo vede possono essere uomini donne bambini io non lo so non so quante persone l'hanno visto e non so chi sono mentre online la tua vita è lì ti spiego brevemente questo facebook google youtube loro collezionano i tuoi dati questo non vuol dire che ti tolgano la privacy ma vuol dire che loro collezionano le tue ricerche le tue amicizie quello che pubblichi nel tuo profilo e poi lo danno in mano agli advertiser quindi alle persone che fanno pubblicità su questi posti in modo da targetizzarti cosa vuol dire targetizzarti vuol dire farti apparire la roba che ti interessa in base alle tue informazioni quindi non so se vivi a Milano ti può capitare una pubblicità per delle cose di Milano io che sono a Valencia mi capitano spesso delle cose su Valencia è incredibile addirittura mi arrivava su facebook italiani a Valencia venite in questo posto incredibile come fa a sapere che sono italiano e vivo a Valencia è assurdo ok questo è il target una volta che impari a fare questo io e Fabio abbiamo dominato il target a Ibiza riuscivamo per dirti a far apparire i nostri eventi le nostre feste davanti alla gente che era appena arrivata a Ibiza quindi immaginati uno che a terra a Ibiza apre il telefono e già gli compare un annuncio della festa di domani non la gente a caso non la gente che abita a Ibiza seguimi lo facevamo apparire davanti alla gente che sta arrivando a Ibiza ok appena arrivata a Ibiza ma la loro casa è a più di 100 km in questo modo so per certo che sono turisti ok quindi tutte queste tecniche te le insegniamo in Marketing Genius voglio che vai all in e compri il nostro prodotto principale perché lì è spiegato tutto nei massimi dettagli ok e questo qui è un po' il secondo segreto cioè non puoi vendere tutto a tutti le persone devi targetizzarle e fargli apparire le cose in base ai loro interessi il terzo segreto è il marketing ma quello vero cioè diciamo che è un po' la pratica che insegniamo noi in Marketing Genius la gente ti trova si informa da sola quindi si crea l'interesse sono loro che trovano noi leggono le info e poi decidono di comprare senza alcuna resistenza noi la chiamiamo la non resistenza cioè le persone scelgono e questa è la cosa più bella quando entro in un negozio la cosa che odio di più è quando mi dicono vuoi questo vuoi quell'altro ti vengono a pressare quando le persone le pressi scappano via invece online perché è bello comprare perché non hai pressione ti puoi guardare le cose con calma ti puoi leggere le descrizioni puoi capire come funziona il prodotto puoi leggere le recensioni ti puoi informare la gente compra online per questo e praticamente più dell'80% delle persone intervistate le persone che comprano online hanno detto che lo fanno perché hanno libertà nessuno ha parlato del prezzo è incredibile cioè la gente non compra online per il prezzo alcuni sicuramente sì perché lo trovano meno ma lo comprano online perché non ci sono rotture di scatole per la comodità per il fatto che ti arriva a casa quindi questo è quello che vuole la gente se tu impari a posizionarti lì hai vinto quindi lo schema è quello di creare interesse attrarre la persona verso di te dargli tutte le informazioni e loro comprano in automatico questo è vendere quindi non è pressare telefonare alla gente fare queste cose assurde no viene tutto in automatico cioè vendere essenzialmente significa prendere i soldi e basta questa è la prossima storia Daniel Castorani un altro dei nostri top affiliati ha guadagnato migliaia di euro in marketing genius ma viene da un lavoro molto umile riparava ascensori faceva lavori faticosi è entrato in marketing genius per aiutare la sua famiglia sta lanciando i propri progetti imprenditoriali è uno dei top affiliati marketing genius siamo veramente orgogliosi di lui e sta cambiando la sua vita giorno dopo giorno è un mostro è un alieno no ti garantisco che è una persona normalissima che non aveva mai lavorato online nemmeno lui però fa azione tutti i giorni quindi sarai d'accordo con me che il vero marketing inizia quando è la persona che ti cerca è lei che si interessa a quello che fai e soprattutto crede che sia stato per pura casualità perché questo è il bello questa è la magia le persone vanno a vedere si informano e pensano che gli sia apparso una loro vita per caso è molto più bello piuttosto che andarle tu ad inseguire se no le persone si sentono delle prede invece diventano loro i predatori cioè sono pure contenti di aver trovato il prodotto o servizio che cercavano e pensano che sia stato per pura casualità ma per pura casualità non è perché noi conosciamo le regole del gioco sappiamo come promuoverci sappiamo come apparire davanti alla gente giusta ora lascia che ti faccia una domanda se tu impari ad automatizzare questo sistema a targetizzare le persone giuste e mettere la pubblicità giusta davanti ai loro occhi davanti però a persone pronte a pagare davanti a persone che stanno cercando il tuo prodotto o servizio immaginati che io ho una penna e le persone che cercano una penna mi trovano pensi che sia facile vendere assolutamente sì è facile avere successo una volta che hai metabolizzato e applicato queste dinamiche e là c'è che ti faccia una seconda domanda vorresti vedere cosa abbiamo creato in marketing genius questo è il prodotto più veloce è veramente il nostro programma principale che ti spiega come in fretta creare questi risultati per il tuo business anche per chi parte da zero anche per chi non ha niente da promuovere non richiede molto del tuo tempo e puoi farlo veramente con pochi minuti al giorno ma di dedizione costante puoi costruire il tuo business e avere risultati extraordinari ti presento MG Success All In All In è il nostro prodotto principale quindi è il nostro corso completo con oltre 70 video in realtà più di tutti i bonus siamo già oltre 80 video dove parliamo di Facebook quindi ti porto su Facebook ti faccio vedere un full training di come creare la tua pagina Facebook di come lanciare le tue pubblicità di come renderla bella ti faccio vedere ad esempio la mia fanpage su Facebook ok ti porto nella mia pagina ti faccio vedere come creare una pagina in questo momento sta crescendo abbastanza in fretta o se non sbaglio un anche su Facebook state vedendo la mia pagina molto forte questa cosa ho quasi 80.000 followers cresce in fretta c'è ottima interazione ti insegniamo a costruire la tua pagina a promuovere il tuo business tramite le Facebook ads quindi a promuovere il tuo business fare gli annunci a pagamento anche dove prendere il materiale grafico per la tua pagina come editarlo insomma veramente tutto spiegato step by step ok poi ti insegniamo YouTube con tecniche sia gratuite che a pagamento ma a pagamento mi riferisco veramente a pochi pochi centesimi va bene su YouTube YouTube è veramente una bomba ti faccio vedere ti porto al volo su YouTube ti spiego al volo alcune dinamiche per esempio su YouTube una delle cose da cui parto io in tutti i miei training vedi in questo momento per esempio io sono live su YouTube ti insegno anche tutte queste cose ti insegno ad avere visibilità ma soprattutto quando io digito una parola non so scrivo ad esempio Herbalife a me escono delle parole chiave mi escono delle idee questo è ciò che la gente cerca su YouTube quindi ti insegno a usare la barra di ricerca per creare video pubblicarli e apparire in base a quello che la gente cerca ti insegno ad ottimizzare il tuo canale per esempio ti porto qui ti insegno a personalizzare il tuo canale a riempire le informazioni eccolo qui questo è fondamentale perché perché se lo fai in un certo modo con le tecniche che ti insegniamo il tuo canale ha più visibilità ha più autorità e ogni cosa che pubblichi può arrivare in cima degli altri per esempio io ho fatto vari video ho fatto uno per esempio dove parlo delle donne imprenditrici dove sono al secondo posto contro video che sono in giro da sei anni vedi video che sono in giro da sei anni da dieci mesi va bene arrivo a superare spesso gli altri ok ti posso insegnare a fare tutto tutto questo ok poi si parla si parla di creazione di siti web in cinque minuti non con cose complicate veramente in pochi minuti ti insegno a creare la tua pagina web a creare pagine di cattura contatti quindi prendere l'email della gente seguire le persone con campagne di email marketing non so se ricevi le mie email spero di sì spero che ti facciano piacere ti insegno come strutturare un'email in modo che non vada nella cartella spam come cercare di evitarla come portare le persone a fare azione come creare sequenze di email poi ti insegno a fare google, bing e i pay per click cosa sono? sono essenzialmente pubblicità dove non hai rischio dove paghi solo quando la gente va a vedere cioè se nessuno clicca non paghi quindi è ottimo per chi inizia non rischi niente e puoi avere risultati straordinari ti insegno tecniche di chiusura vendita e persuasione il valore totale è oltre 5.000 euro ok le persone che l'hanno utilizzato beh Enrico Franzoni amministratore delegato di un'azienda di moda ragazzi adesso vive grazie all'online lui voleva lavorare da casa pochi mesi marketing genius adesso opera con successo online lavora con la sua famiglia ha lanciato i suoi progetti imprenditoriali imprenditoriali ci siamo rivisti a Roma qualche giorno fa con Enrico gli ho stretto la mano l'ho guardato negli occhi e gli ho detto complimenti per quello che stai facendo Marco Delendati ha aumentato Marco Delendati l'abbiamo sentito sul palco a Roma ragazzi se non ci credete scrivete a queste persone ok non sono testimonianze fake ho anche i loro video se sei venuto a Roma le hai conosciute le hai viste sul palco Marco Delendati è dirigente di un'azienda di stampaggio e materie plastiche qualcosa che sembra che con l'online non puoi farci niente ragazzi ha risollevato ha aumentato il fatturato del 30% ha fatturato in un mese quello che ha fatturato in un anno ha molto più tempo per se stesso viaggia ed è protagonista di lanci di aziende di successo ora non ti preoccupare lo puoi fare anche se non hai niente da vendere o da promuovere non devi essere un imprenditore molte persone sono partite veramente da zero in Marketing Genius e ti mostrerò come fare ok il valore totale di oltre 5000 euro ma soprattutto andando all in e all in è una promessa ok non è solo comprare un prodotto se vai all in è perché hai capito che qui ci sono le informazioni e voi veramente andatela a prendere e applicarle ok puoi generare clienti in pilota automatico puoi imparare come lanciare un prodotto un servizio creare il tuo prodotto se vuoi da zero lanciare il tuo progetto diventare un influencer se vuoi e vivere nell'abbondanza di risultati concreti perderai lo stress tempo perso buttato via in strategie inutili soldi sprecati alla fine io te lo garantisco se non vai all in adesso butterai molti più soldi in altre cose va bene butterai molti più soldi come abbiamo fatto noi noi eravamo così io buttavo i soldi cercando di provare da solo alla fine spendevo molto di più piuttosto che comprare un corso che mi dà veramente tutto ma soprattutto quando vai all in ti liberi di fallimenti e paure finalmente hai un sistema pratico che funziona e che ti può cambiare la vita sai esattamente cosa fare noi avevamo tutti questi problemi abbiamo speso anche 2700 euro solo per imparare una frazione di quello che c'è in marketing genius e tu avrai tutto questo sistema con tutto quello che ti serve è la migliore accademia che esiste nel mondo online per chi parte da zero e vuole veramente arrivare a lavorare da professionista non solo questo oltre al valore di 5000 euro dei nostri training se comprassi tutto questo per separato andresti a pagare 6200 euro perché? perché facciamo anche webinar mensili con domande e risposte il prossimo ragazzi il prossimo webinar lo farò sabato va bene quindi sabato non perdetevi il mio webinar live lo farò dedicato ai membri che sono parte di marketing genius va bene il valore già potevamo chiedere un centinaio di euro al webinar ma sono gratuiti e sono inclusi e sono a vita il valore totale di 6200 euro abbiamo aggiunto un bonus che si chiama road to freedom 500 euro di bonus qui io ti mostro il mio account sono in condivisione schermo e ti faccio vedere come ragiono mentre opero live quindi mentre stavo lavorando ho filmato il mio schermo e ti faccio vedere live quindi non sto insegnando parlo con me stesso parlo all'altra voce vedi come ragiono e come lavoro io e poi andare all in ragazzi come diceva è uno stile di vita queste sono gli all inners queste storie le trovate andando su allinners.com se scrivi allinners.com trovi tutte le loro testimonianze su facebook sono persone che hanno deciso di prenderla seriamente vedi nella vita secondo me ci sono solo due opzioni non c'è avere mezzo successo c'è avere successo o fallire non c'è la via di mezzo chi va all in è perché ha deciso di bruciare le navi dietro di sé e andare avanti qualsiasi cosa succeda nella vita è un gruppo bellissimo ci siamo visti all'ultimo evento qualche giorno fa ci sono create amicizie bellissime di persone che non mollano mai io lo definisco una nuova razza di imprenditori digitali che vogliono veramente fare le cose fatte bene e vanno fino in fondo e sono certo che tu sei così ora lascia che ti faccio una domanda ora io non ti voglio far pagare 6.700 euro di prodotti perché so che è un investimento molto elevato ma se davvero gli pagassi 6.700 euro ti generassero 10.000 euro ogni singolo mese sei d'accordo con me che sarebbe un ottimo investimento penso di sì paghi 6.700 euro di corsi e arrivi a generarne 10.000 ogni mese sei in profitto ma anche se ti generassero solo 1.000 euro ogni mese per i prossimi anni sarebbe comunque un ottimo investimento ragazzi c'è gente in marketing genius che 1.000 euro li fai in un giorno ok in un giorno c'è una persona che ha fatto 200.000 euro l'anno scorso grazie a marketing genius ok grazie le nostre tecniche potresti essere tu il prossimo ma soprattutto che valore ha tutto questo per te questi siamo io e Fabio nel nostro ultimo viaggio anzi nel penultimo viaggio in America l'ultimo è di il mese scorso ok non abbiamo ancora caricato le foto se fai vedere il video dell'ultimo è pazzesco sì potrei fare vedere tanti video come chiusura come chiusura metti quel vlog là come chiusura dal webinar va bene va bene la chiusura del webinar metterò il vlog ok così vedete un po' cosa abbiamo fatto ma io vi ho fatto questa domanda non è per farvi vedere quello che è il nostro valore per noi in questa vita è per chiedertelo a te che valore ha per te cioè che obiettivo hai tante volte le persone non raggiungono nessun obiettivo perché non si chiedono cosa vogliono quindi voglio che magari prendi un minuto e ti chiedi perché perché io voglio andare all'inno in marketing genius perché ho deciso di prenderla seriamente che valore ha tutto questo per te è il tuo futuro è la tua vita cosa decidi di fare decidi di andare all'in o decidi di tornare indietro con le solite scuse a lamentarti o decidi invece di fare azione perché finalmente hai gli strumenti guarda io te lo garantisco gli strumenti ce li hai quando vai all'in c'è tutto quello che ti serve devi solo fare azione ok questo è Carlo Belpoggio uno scrittore emergente in realtà non è uno scrittore di professione lui è responsabile di un'azienda da fatturati impressionanti ma la sua passione è un'altra lui vuole vendere le sue opere vuole vendere i suoi romanzi ragazzi è entrato in marketing Inginio si è andato all'in ha raddoppiato le vendite del suo libro in 15 giorni le ha triplicate il secondo mese e molte persone soprattutto apprezzano il suo talento e lo riconoscono questa per me è la cosa più bella quando fai qualcosa sei riconosciuto nel tuo ambiente ed è la cosa più bella secondo me quando fai la differenza per le persone che amano quello che ami tu Fabio magari gentilmente puoi chiudere il microfono che sento un po' di ritorno ora avevamo due opzioni potevamo mantenere questo prezzo per pochi oppure potevamo renderlo disponibile per il loro per il suo valore reale ok ma scusatemi potevamo mantenere questo prezzo per pochi e renderlo disponibile davvero a 6.700 euro oppure potevamo rendere marketing genius accessibile a molti e creare un vero e proprio movimento di imprenditori digitali e abbiamo deciso di fare questo ok quindi anziché 6.700 euro abbiamo deciso di lanciare marketing genius a 349 euro ed è a vita cosa vuol dire questo è fondamentale voglio che vai all in adesso perché è un prodotto a vita cosa vuol dire che con 349 euro hai aggiornamenti illimitati ok ora voglio fare una cosa ragazzi se siete online al webinar ok voglio aprire un'offerta e la vedete esattamente comparire adesso la trovate a fianco alla chat eccola qui è un'offerta che dice mg all in più special bonus e c'è un bottone che dice vai all in adesso d'accordo voglio che clicchi su quel bottone e verrai portato nella pagina del nostro prodotto all in di marketing genius va bene voi ragazzi che siete su facebook abbiamo messo il link all'interno del post il link è violin.com clicca su violin.com e verrai portato in questa pagina dove puoi fare l'acquisto va bene per chi fa l'acquisto adesso durante il webinar sapete che noi vogliamo premiare le persone che fanno azione che hanno le idee chiare e che agiscono in fretta va bene quindi ho deciso di aggiungere tre special bonus che voglio regalare solo a chi va all in adesso in questo momento durante il webinar ok solo per oggi e solo entro la fine del webinar abbiamo il primo bonus che è per i negozi tradizionali o per chi ha già un prodotto quindi se hai già un prodotto se hai già un servizio se hai già un'attività da promuovere o un'idea di business o un e-commerce o un qualcosa che vuoi lanciare in questo bonus io ti faccio vedere le stesse identiche identiche tecniche che ho usato per generare 2500 euro in un solo giorno vendendo magliette per esempio promuovendo un ristorante ti faccio vedere esattamente come farlo andremo a spiare la concorrenza e andremo a superarla quindi in pratica in questo bonus sono sei video dove io ti porto all'interno di tutte le tecniche che vediamo in Marketing Genius negli oltre 80 video che abbiamo prendo quelle che ti servono a te e te le applico sotto i tuoi occhi è senza prezzo è proprio come tirare via veramente il sipario ti faccio vedere quello che c'è dietro i riflettori ok il secondo bonus è per chi fa network ragazzi se c'è qualche network questo lo amerete è il mio stesso master plan quindi il mio stesso identico piano d'azione dove ti mostro come ho iscritto oltre 3000 persone nelle mie attività di network in automatico quindi ti metto sullo stesso identico sistema te lo vado a sviscerare vado veramente a desossare e spinare come fosse un pesce che vado proprio ad aprire tutto vado a fare un'autopsia va bene vado a fare l'autopsia del mio sistema di marketing e ti analizzo ogni singolo pezzo è senza prezzo ti mostro tutto 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 quello che ho fatto sono sei video dal valore incredibile ti faccio vedere come mettere sul tuo sito cosa scrivere cosa dire le dinamiche per portare la gente a fare azione che bonus mettere cosa dire alle persone è allucinante il terzo bonus questo è per chi non ha niente da promuovere ti insegna a fare affiliate marketing cioè in pratica cosa ti insegno a fare ti porto su un sito che si chiama clickbank dove ci sono prodotti in affiliazione e lì ti insegno a prendere prodotti creati da altre persone e promuoverli sul web tutto quello che devi fare è prendere un link e usando le tecniche di marketing genius in questi sei video ti mostro come promuovere online con le tecniche di marketing genius applicate all'affiliate marketing tante persone mi chiedono ma cos'è l'affiliate marketing beh l'affiliate marketing io la chiamo essenzialmente l'arte di fare soldi senza rapporti umani ok perché perché nessuno sa che ci sei te cioè io posso andare per esempio a prendere non so un ebook c'è un ebook bellissimo che abbiamo promosso per un po' di tempo si chiamava scopri se lei ti tradisce o scopri se lui ti tradisce è carino e tante persone sono certo che lo comprano perché vogliono capire un po' questi dubbi di coppia e ti insegno come prendere il link di questo ebook promuovere online e ogni volta che la persona lo compra boom arrivano commissioni 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 e le persone non sanno nemmeno che sei tu cioè tu non devi fare customer service non devi chiamare nessuno non devi mandare email è tutto automatico ci sono anche i programmi di trading per esempio dove tu non devi saper fare trading devi solo portare persone a cliccare ad andare a vedere fine molti mi chiedono ma qual è il segreto dell'affiliate marketing beh è il clic sul link cioè devi solamente portare della gente a cliccare su un link tutto quello che succede dopo è automatico molti programmi di affiliazione hanno diciamo un seguimento automatico quindi tu porti la persona a cliccare e poi ci pensano loro a telefonarci a chiedere le cose a chiudere la vendita per te e tu ti becchi la commissione quindi in questo bonus ti spiego le basi dell'affiliate marketing ti apro veramente uno sguardo importante su questo mondo e ti insegno come applicare tutte le tecniche del corso ai prodotti in affiliazione e ti insegno anche dove andarli a prendere ok sono sei video sei video sei video di super super bonus ok ragazzi io torno live se vi va ok torno in video e se avete delle domande sul nostro prodotto all in fatecele intanto vai pure all in clicca nel bottone che c'è all'interno del webinar vai all in adesso e se sei su facebook vai su vai all in.com entro la fine del webinar magari staremo insieme ancora non so qualche minuto quindi procedi adesso con l'acquisto e i bonus li vedrai i bonus li trovi qui alla fine del corso vedi una volta che vai all in si sbloccano tutte le lezioni del corso eccole qui troverai tutto sbloccato e alla fine ok qua troverai tutti i tuoi bonus vedi bonus sull'affiliate marketing eccolo qui attività tradizionali eccolo qua alla fine del corso troverai tutti i bonus va bene quindi vai all in troverai tutti i bonus attivati sul tuo account domani mattina va bene li attiviamo domani mattina perché bisogna attivarli manualmente per regalarti questi bonus ok quindi vai all in e alla fine del corso troverai i tuoi bonus intanto se ci sono delle domande ragazzi torno live chiedetemi pure quello che volete eccomi qui eccomi qui eccomi qui eccomi qui allora vado a vedere la chat vai ciao Matteo sono andato lì in sabato ok Anna Maria se sei già all in scrivi al nostro supporto per favore ok Fabio ciao devo proporre la vendita di prodotti per la salute e benessere con Facebook ottimo si puoi usare Facebook Fabio Facebook è ottimo per salute e benessere se vai all in adesso c'è anche il bonus sulle attività tradizionali che alla fine è comunque un prodotto un servizio quello che tu vendi quindi io ti consiglio di usare ti consiglio di usare anche quel bonus per capire come fare una ricerca di mercato cosa cerca la gente sul discorso dei prodotti di benessere e capirai quando loro li cercano come apparire nei risultati delle ricerche su Google e su YouTube quindi ti consiglio di andare lì in adesso ti vai a vedere le lezioni quelle praticamente dall'88 in poi ti vai a vedere le lezioni dall'88 alla alla 90 dalla lezione 88 alla lezione 96 ok segnatele se vuoi dall'88 a 96 poi ragazzi se ci sono domande fatevele pure vado anche a vedere per Clickbank che traffico usi dice Saeed principalmente Facebook secondo me per Clickbank ma va bene ogni fonte di traffico dipende dal prodotto che decidi di promuovere ok ok vado dal volo su Facebook leggemi un po' i vostri comments vai ragazzi se avete domande fatemele pure e io vi rispondo al volo ok Fabio hai già risposto a qualche domanda o compratelo ne vale la pena dice Giovanna grazie di cuore se io parlavo ho risposto a alcune persone in privato ottimo 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 allora vado al volo sul ragazzi l'offerta è valida entro la fine del webinar quindi andate in linea adesso se volete i bonus perché è veramente senza prezzo i bonus hanno un valore di 500 euro l'uno ok è veramente veramente sono bonus veramente veramente importanti ok ragazzi se avete qualche domanda chiedete pure così almeno vi rispondo live ok dicevo vorrei vostro aiuto per aumentare la pubblicità nel nostro blog allora dipende da che tipo di blog è ok dipende da che tipo di blog è in base a quello se tu conosci il tuo audience puoi usare Facebook Ads per me per i blog Facebook è la cosa migliore perché la gente tende a condividere gli articoli se c'è del valore quindi Wunert se non l'hai fatto vai all in e ti vai a vedere tutte le prime lezioni del corso all in sono le più importanti per te sono tipo le prime 26 lezioni sulla parte Facebook che è veramente quello che fa la differenza per te ok evento straforte dice Dino grandissimo mi tremano le gambe solo il pensiero ok ok ragazzi allora intanto vi spiego intanto scrivetemi le domande magari qualcuno sta digitando ne sono sicuro stavo leggendo un po' di qua adesso ragazzi scrivetemi anche su Facebook per voi che siete live su Facebook così vi rispondo un attimo che lo potete settare il telefono intanto vi faccio vedere un po' come è strutturato il corso ok visto che in tanti mi chiedono di capire il programma esatto vado a condividerlo ok ok vedi il mio account Fabio sì penso di sì allora ragazzi Fabio mi dai l'ok se si sente ma penso di sì perfetto ok questo qui ragazzi è il sito di Marketing Genius io sono logato qui c'è la parte con all in quindi appena vai all in cosa succede che ti si sblocca tutto il corso ok ti si sblocca anche la chat degli all-inners che è fortissima è qua a fianco va bene la trovi qua adesso la stanza è piena perché è sempre affollata perché adesso siamo tutti collegati la sera però qui appena si libera un posto puoi andare in chat e chattare con gli altri membri chiedere supporto chiedere aiuto ok è anche bello perché lo puoi fare mentre guardi i video qui all'inizio c'è l'introduzione al metodo Marketing Genius quindi ti spiego un po' nella pratica come cosa andremo a fare insieme alla lavagna ti do dei consigli sul corso e poi partiamo con Facebook su Facebook io ti insegno come cosa sono gli annunci ti insegno a creare la pagina fan creare gli annunci con i post in evidenza ti insegno e questo è fondamentale le regole pubblicitarie di Facebook va bene questo è decisivo perché perché su Facebook tu puoi promuovere qualsiasi cosa ma devi stare attento a come lo promuovi quindi ti insegno a rispettare le regole in questo modo Facebook ti apprezzerà e facendo quei due o tre trick che io ti do quando pubblichi delle cose ricevi più visibilità ok poi ti insegno le parole chiave quindi ti insegno per esempio ti faccio vedere questa lezione per spiegarti come lavoriamo ti porto qui all'interno del mio account ora un attimo di tempo vedo se riesco a caricare la lezione ok vedi metto play e come puoi vedere nel corso io sono qui a fianco a te cioè sono qui in video ok e ti mostro il mio account quindi ti porto all'interno di Facebook ti faccio vedere dove cliccare come muoverti e facciamo esattamente le cose insieme in questo video sto compilando un annuncio quindi ti faccio vedere come farlo cosa inserire i risultati finali ti porto nelle mie pagine ti faccio vedere esattamente come lavoro io ok quindi parleremo di come creare gli annunci su Facebook di cosa scrivere nei post quindi le parole fare una chiamata all'azione portare la gente a diciamo catturare la loro attenzione la parte grafica quindi dove prendere le immagini gratuitamente chiaramente ti insegno dove andare a prendere delle immagini per crearle per mettere nella tua fanpage lanciare gli annunci monitorare i risultati e duplicare ti spiegherò anche il concetto di scalare gli annunci cos'è scalare gli annunci quando diciamo qualcosa sta andando bene e se qualcosa ti fa guadagnare 5 euro ti porta a guadagnarne 10 poi 20 poi 40 e così via quindi ti spiego questo concetto ti insegno anche l'importanza dei video per chi fa dei video come usarli come gestire i commenti negativi che purtroppo arriveranno ti spiego un segreto per il futuro questo è un bonus non te lo posso rivelare chiaramente qui ti insegno a fare i post oscuri cosa sono i post oscuri e quando promuovi qualcosa nessuno sa che sei tu quindi in maniera anonima come restare anonimi e vendere quello che vuoi poi passiamo a YouTube ti insegno a creare il canale a impostarlo a caricare i video con la tecnica marketing genius per salire sempre sopra gli altri ti faccio vedere come creare degli annunci quindi come metterli in evidenza i tuoi video e il risultato che avremo sarà doppio ok cosa vuol dire? vuol dire che per esempio ti porto su YouTube cerchiamo per esempio Bitcoin ok una parola qualsiasi cerchiamo Bitcoin ok qui c'è un annuncio va bene che parla di trading di Forex e io ti insegnerò ad apparire sia qui nell'annuncio che sotto l'annuncio va bene potentissimo così hai il doppio di possibilità di essere trovato tutto è impostato per avere massimi risultati e massima visibilità poi ti insegno Google qui ti porto su Google ti faccio vedere come creare gli annunci cosa sono gli annunci su Google? molto semplice sono per esempio questo scrivo Hotel Milano va bene e questi qui sono annunci vedi booking trivago e ti insegno una tecnica ok questa è una tecnica diabolica non la usa nessuno ti insegno una tecnica dove puoi arrivare addirittura a superare questi personaggi qui va bene spendendo niente niente ok quindi tecniche veramente veramente pro per chi vuole usare Google per tutti voi che avete un'attività tradizionale andate all in ragazzi studiatevi la parte su Google e la parte su Bing Bing cosa è? è un altro motore di ricerca tipo Google? molte persone mi chiedono perché io insegno a usare Bing eccolo qui Bing molti me lo chiedono è un motore di ricerca chiaramente più piccolo forse Bing ha solo l'1% del traffico mondiale ma hey marketing genius si tratta di avere contatti ok quindi se anche qui c'è solamente l'1% del traffico delle persone a livello mondiale porca miseria l'1% delle persone che sono su internet stiamo parlando di milioni di persone va bene quindi non posso perdere i clienti che arrivano da qui e ti insegno come dominarlo poi ti insegno a creare un sito da zero comprare un dominio metterlo su è veramente spiegato step by step c'è un video dove ti insegno a creare un sito in un minuto ok un minuto puoi personalizzarlo ti insegno lo stesso identico sistema che uso io per creare pagine web bellissime ti insegno anche a creare non so per esempio pagine cattura contatti come queste ok se qui sono pagine dove le persone lasciano lasciano l'email per esempio questa no in questa pagina cosa c'è? c'è un video che adesso forse si carica eccolo qui c'è un video e poi c'è il bottone per vedi per mettere l'email quindi ti insegno a catturare l'email della gente tutto è veramente veramente spiegato step by step e poi alla fine ti insegno a fare email marketing quindi a mandare le email eccetera e a creare sequenze di email nell'ultima parte del corso ti insegno a usare il pixel di facebook questo è veramente il top cos'è il pixel? e quando tu hai visto qualcosa poi navighi su facebook e quella pubblicità ti ritorna davanti no? è incredibile tu dici ma io ho cercato no? un albergo su booking com'è possibile che l'albergo mi insegue? il booking mi continua a ricomparire vedi io sono andato nella pagina di Russell Branson una volta e adesso mi ricompaiono le sue cose sempre come fa? beh è molto semplice usa queste tecniche per fare retargeting quindi ti insegno a fare questo che è potentissimo perché così la gente che ti trova poi si ricorda di te può vedere le tue ultime offerte poi fargli un'offerta è veramente da paura ok? e subito dopo troverai tutti i bonus ma solo se andrai all-in entro la fine di questo webinar va bene? quindi vai su vaiall-in.com se sei su webinar trovi il link esattamente qui d'accordo? nell'offerta se sei su youtube lo trovi in descrizione o basta che vai su vaiall-in.com basta guarda che scrivi in alto sul browser e gli scrivi vaiall-in.com va bene? vaiall-in.com e ti si apre la pagina del nostro corso all-in se sei già logato se sei già un account di marketing genius fai login altrimenti apri un account nuovo e gratis e poi puoi fare il tuo acquisto va bene? 349 euro è illimitata la licenza quindi ogni anno noi aggiorniamo i contenuti facciamo i webinar continuamente hai tutto questo incluso a vita senza limiti di tempo quindi puoi anche guardarti il corso tutte le volte che vuoi con tutta la calma del mondo ok? un'altra cosa molto forte che hai quando vaiall-in è l'accesso al nostro programma di affiliazione la trovi qui andando su account affiliato e se non hai niente da promuovere beh puoi chiaramente fare affiliate marketing come ti insegniamo noi o puoi promuovere marketing genius come fanno tante persone qui nel tuo pannello trovi le tue commissioni qui andando su referrals trovi tutte le persone che hai iscritto le trovi qui non ci vado a cliccare solamente per motivi di privacy va bene? però qui trovi i loro nomi e il loro email essenzialmente funziona così basta che vai su qua marketing poi link di affiliazione e qui trovi il tuo link per promuovere marketing genius eccolo qui questo qui è il tuo link no? eccolo qua tutto quello che devi fare è prendere il link e usare le tecniche che insegniamo per promuoverlo fine ti faccio vedere cosa succede quando tu mandi il link a qualcuno le persone si possono iscrivere gratis in marketing genius quindi tu mandi il tuo link tutto quello che devi fare è solamente questo di solamente portare la gente a cliccare sul link perché? perché quando vanno sul sito di marketing genius vedranno tutte le informazioni si registrano gratis e appena si registrano boom hanno accesso ai video gratuiti hanno accesso ai nostri contenuti gratuiti e poi appena andranno l'in boom ti arrivano 110 euro di commissione ed è tutto automatico perché noi ci carichiamo di entrare in contatto con queste persone di dargli una mano di offrirmi contenuti gratuiti devi essenzialmente solo regalare l'accesso gratuito a marketing genius e tutto il resto è automatico va bene quando le persone andranno l'in boom ti arrivano 110 euro di commissione che vengono pagati ogni settimana quindi è il programma di affiliazione più veloce del west è una cosa incredibile certi programmi di affiliazione devi aspettare una vita prima di essere pagato un mese due mesi in marketing genius ogni settimana paghiamo le commissioni va bene basta che sistemi qui nei pagamenti il tuo metodo di pagamento e boom ogni settimana ti paghiamo le commissioni ok nei commenti è possibile vendere infoprodotti non di proprietà assolutamente sì Roberta certo ecco lì lo scopo anche questo qui è l'affiliate marketing vai all'in adesso Roberta se non l'hai fatto e ti vai a vedere nelle lezioni bonus ti va a vedere gli ultimi sei video sono i video dal praticamente il video dal 106 al 112 va bene te li vai a vedere bene ma guardati anche tutto il resto del corso però lì impari a prendere prodotti creati da altri e venderli sul web puoi prendere quello che vuoi ebook poi avremo una quantità di prodotti incredibili tramite un'integrazione che avremo sul nostro sito dove da lì direttamente potrai andare a prendere i prodotti che vuoi direttamente dal sito di marketing genius questo tra poche settimane quindi è pazzesco ok quindi ragazzi chiedetemi pure quello che volete grande Emanuela Fabio non ti sento il microfono disattivato forse ho appena scritto Emanuela di tutte le donne che vanno lì in marketing genius ma anche che non sono lì possono fare richiesta al gruppo delle power women abbiamo un gruppo dedicato alle donne che si stanno muovendo nel mondo digitale per fare in modo che si uniscano e si diano la forza vicenda per proseguire assieme in questo percorso ci sono un sacco di domande vai Fabio intanto vado su facebook a leggere domande su facebook vai ragazzi fisicamente come sono gestite le commissioni devono essere fatturate a chi? allora Valentina se tu non guadagni in maniera continuata e sei in Italia semplicemente per fare l'affiliato ci devi mandare dei documenti per riconoscerti e noi mandiamo le commissioni le commissioni vengono pagate su paypal ok a meno che tu non abbia una partita IVA puoi anche non fatturarcele ci facciamo l'autofattura noi ma una volta che tu guadagni in maniera continuativa dovrai farci fattura perché se no non ti possiamo più pagare anzi di regola dopo i 5000 euro noi non paghiamo più nessun affiliato se no ci dimostra che è in regola anche perché l'ideale l'ideale visto che è importante queste cose allora l'ideale per chi inizia in Italia se sei residente in Italia non hai bisogno di avere partita IVA per iniziare a lavorare online quando inizia a guadagnare super di 5000 euro di fatto ti servirebbe la partita IVA ok o quando inizia a generare commissioni costanti va bene quando è costante la cosa diventa un'attività che non è più occasionale va bene finché sono un guadagno ogni tanto puoi dichiararli come guadagni occasionali come redditi extra basta che li metti nella dichiarazione dei redditi tutto qua ti vanno a fare cumulo e poi vai a pagare l'IRPEF in base alla liquota che raggiungi nel momento in cui ok Valentina ha già partita IVA quindi non c'è bisogno e quindi comunque per chi non ce l'ha Valentina sei partita IVA ci mandi una mail al supporto ti facciamo la fattura all'istante così te la puoi scaricare come costo e non praticamente non hai pagato niente quello del login se è un costo quei soldi comunque non hai visto per chi ce l'ha chiesto ragazzi intanto invito voi su Facebook mi sono perso molti dei vostri commenti ragazzi su Facebook perché ho dovuto resettare il telefono se avete delle domande voi che mi state guardando live su Facebook vi chiedo di riscriverle ok scrivetelo adesso che è tutto a posto vi vedo e un altro è possibile vendere infoprodotti di mia proprietà è proprio quello di cui ci occupiamo il marketing genius anzi abbiamo proprio un settore dedicato che è l'affiliate marketing gestito da due tra i più forti in Europa in assoluto Luca Boreani Nicola Marica e basta quindi una cosa importante che me l'hanno chiesto a breve ragazzi avremo un'integrazione importante nel sito di marketing genius dove potrete addirittura andare a prendere dei prodotti che sono nostri diciamo partner quindi potrete avere veramente una valanga di prodotti da promuovere per chi vuole promuovere prodotti creati da altri e sono tutti prodotti validi verificati e roba che funziona quindi tanta roba diciamo in marketing genius però prima studiatevi le tecniche per me questa qui è la cosa più importante voglio che dominiate il web una volta che avete capito come promuovere realmente poi scegli quello che più ti piace ok Fabio ti vede clissato ok ti ho visto clissato ok ragazzi se avete domande vai fatele pure grande Alessio Paoletti che dice è capitato su Facebook eccolo qui Alessio Alessio prima ci siamo permessi di far vedere Alessio il messaggio che mi hai mandato bellissimo e complimenti per quello che per quello che stai facendo sono un avvocato non è incompatibile come causale dovrei fare fatturare a chi no Valentina non è incompatibile cioè se sei già cioè se sei già partita IVA già lavori in proprio puoi fare anche attività extra non sei dipendente costi pubblicità e marketing tu ti stai formando per promuovere la tua attività quindi più compatibile di quello non so cosa non sia compatibile è chiaro abbiamo un sacco di professionisti che che a cui facciamo fattura che abbiamo dei dentisti qualsiasi tipo di professionista può assolutamente investire in pubblicità e marketing e questo può essere considerato anzi è formazione quindi mando una mail a support b super genius punto com ti rispondo in un secondo perché abbiamo il supporto più efficiente del web i più forti in assoluto sai dice oggi Big Luke ha fatto un video che ha guadagnato 17 mila euro al giorno ragazzi io ho fatto lanci da 150 mila euro ok però non mi lancio in un'ora in un'ora ok non ho fatto il video non ho fatto il video purtroppo però è possibile fare questi lanci eh Big Luke ha penso che abbia fatto anche di più a volte è fortissimo quindi è possibile è possibile fare questi numeri è possibile fare questi numeri è possibile fare adesso che andiamo in aprile andiamo da Big Luke facciamo un video con lui ah ragazzi vi prometto se Big Luke è d'accordo faremo un video con Big Luke ragazzi dove lanciamo un prodotto insieme ok dove lanciamo un prodotto insieme un prodotto che non esiste vediamo sì sì assolutamente e sì sono numeri ragazzi uno magari si sorprende un lancio da 17 mila euro ragazzi è possibile è possibile ragazzi è possibile bisogna anche vedere chiaramente il profitto poi eh perché dipende anche da uno quanto ha investito in pubblicità eccetera però è possibile fare lanci abbiamo io ho assistito personalmente con Fabio a una persona che ha fatto un lancio da 3 milioni sotto i nostri occhi 3 milioni in un'ora incredibile posso operare come società estera sia per affiliazioni che vendite ai prodotti altrui sì Albino sì certo senza nessun tipo di problema senza nessun tipo di problema Albino certo vai all in e poi dedicati alle affiliazioni ti divertirai un sacco ok anche perché abbiamo il settore di affiliate marketing più potente che c'è sul web Giuseppe dice per me che sono residente all'estero sarà complicato per la partita IVA non è complicato perché tu all'estero esattamente uguale come in Italia ok allora in tutti i paesi in Europa non so adesso dove è residente Giuseppe però tu puoi partire come diciamo autonomo occasionale ok nel momento in cui tu inizi a fatturare ragazzi allora io adesso non voglio che addirettiscoci burocratici vi dico come la penso io siete qui per fare soldi giusto siete qui per fare soldi non per perdere tempo se volete fare soldi dovete mettervi in regola prima o poi va bene la cosa bella è che moltissime moltissimi stati ti permettono di iniziare occasionalmente e poi aprire la tua azienda aprire la tua partita IVA perché avete paura a farlo volete fare i soldi o no questa è quella mia domanda per voi volete fare i soldi o no c'è gente che mi dice ma Matteo ma poi se inizio a fare i soldi devo aprire la partita IVA ma ben venga ragazzi io pregavo per avere per l'arrivo del giorno in cui avrei dovuto pagare le tasse io pregavo quel giorno ok lo pregavo perché se apri la partita IVA e apri un'azienda vuol dire che stai fatturando amico mio quindi perché ti devi preoccupare io ho sempre detto una cosa non iniziate ad offuscare la vostra mente con pensieri e paranoie pensate a fare i soldi pensate a fare i soldi e poi dopo pensate a come dichiararli ok questo è il mio è la mia idea poi dopo pagate le tasse e sarete pure felici di farlo ok questo è il mio concetto quindi basta sono tutte scuse che abbiamo no non parlo di Giuseppe parlo in generale di chi ha paura a mettersi in gioco per pagare le tasse ragazzi dai siamo imprenditori o no vogliamo dare l'esempio o no ok su qui un po' il mio il mio concetto no perché in Italia le tasse sono alte ah in Spagna anche sono alte ragazzi in Spagna anche sono alte io ogni volta che pago le tasse anziché pagare le tasse mi potevo comprare una macchina ok ogni volta che vado potevo pagarmi una macchina bella anche le pago cosa devo fare no però il mio focus non è su quanti me ne vanno via il mio focus è quanti ne posso produrre il mese prossimo perché online è possibile online è possibile se cambi il tuo focus non stai andando a lavorare in miniera se hai col tuo computer lavori di testa non lavori di fisico no Alessandro dice se ho una dita da idraulico mi puoi dare una spinta per aumentare il fatturato tantissimo Alessandro vai all in e ti vai a vedere mi raccomando le parti su Google che sono le lezioni se vuoi segnatelo sono le lezioni dal adesso te lo dico esattamente ti vai a vedere la parte su Google che sono dalla lezione 38 e anche la parte su Bing quindi dalla 38 alla 50 e poi ti vai a vedere tutta la parte sui bonus che avrai se vai all in adesso la parte dai dal video 88 fino al dall'88 al 97 ok quindi quelle parti lì ti insegnano proprio ad apparire davanti al tuo pubblico ok sai dice basta iniziare adesso perché Di Maio abbassa le tasse ok speriamo speriamo dai ok quindi Alessandro per esempio per chi fa questo genere di lavori come autonomo mi definisco idraulico elettricista questi lavori qui è ottimo perché nessuno nessuno dei tuoi competitor ha una forte presenza online perché non sono settori che solitamente si specializzano nella promozione online c'è una mia amica che fa il taxi privato a Valencia Fabio la conosce e lei ha un sito web bellissimo e domina domina perché quando cerchi taxi Valencia ti esce sempre lei perché ha una presenza molto più forte degli altri è questo quello che puoi fare da idraulico da elettricista quando uno ha bisogno di un idraulico ha bisogno adesso e più tre volte ha bisogno adesso il primo che ti esce chiami ok quello che ti esce dieci volte negli occhi della gente è il migliore quindi violin assolutamente puoi spaccare ma veramente tanto ok Amarili desidero generare contatti per il mio network conosco molto bene l'utilizzo di facebook per le campagne cosa mi potete offrire informazioni nuove per la mia linea beh non bastano le campagne facebook devi portare le persone sul tuo sito che deve avere una struttura Amarili si è iscritto più di 3000 persone online senza mai prendere il telefono e non è solamente grazie all'annuncio facebook è grazie a tutto il sistema che c'è dopo cioè portare le persone a lasciarti l'email da lasciarti l'email a leggere le tue email da leggere le tue email a fare azione e poi il discorso del retargeting il network che limite ha al fatto che la gente non capisce tutta la prima volta nel network tu devi portare la persona a vedersi una presentazione completa e va molte volte anche a provare il prodotto o ad almeno registrarsi gratis se è un network online quindi in una botta sola tu non potrai mai vendergli qualcosa non è come dire una penna se io vedo una penna su facebook so che è una penna capisco subito cos'è ma un'opportunità di network uno deve capire come funziona cos'è l'azienda si deve fidare deve vederti tante volte per quello che oltre al traffico su facebook che è freddo e gente che non sa chi sei ci deve essere tutto il sistema in back end cioè portare le persone a vedersi il tuo sito a vedersi tutti i tuoi video o a leggere i tuoi ebook ti insegno anche come creare un ebook chiaramente nel mio bonus ok vai all'in adesso e c'è il mio bonus sul network è oro puro ragazzi c'è Angelo Santuccio che non so se è collegato a Angelo che ha lavorato con noi per gli ultimi due mesi networker bravissimo offline che online voleva imparare ha lanciato il suo primo annuncio su facebook dopo che ha fatto il sito come gli abbiamo detto ha iscritto una persona al suo primo giorno cioè una prima linea così dall'universo è incredibile la nostra amica Alessandra Alessandra Meda ha fatto un post ne ha iscritte tre è scritto tre persone appena lanciato il suo sito tre prime linee è una roba allucinante ok è veramente allucinante se non ci credete io ragazzi vi porto anche nei gruppi vi faccio vedere la roba che scrivono perché è una roba cioè roba allucinante ok vi faccio anche vedere no adesso vediamo se riesco a ecco guardate vi condivido al volo lo schermo ok vedete questa qui è la nostra amica Alessandra che scrive funziona tre prime linee iscritte online no e ci sono le persone qua che commentano scrive uno dei nostri gruppi in marketing genius no questo per dirvi cosa sta succedendo è una roba pazzesca ok ma è così tutto il giorno tutto il giorno queste qui sono le foto dell'ultimo evento che le stanno pubblicando un po' tutti e lo vedete da tutte le parti ok Simona ecco Simona grande Simona landing page landing page e sito le due cose per il network solitamente è meglio avere le due cose è meglio avere una landing per prendere le mail e magari gli offri qualcosa in cambio e poi il sito dove ci sono tutte le informazioni il sito deve avere una struttura ben precisa in modo che la persona continui a leggere e vada a leggere sempre più in sotto cioè sempre più in basso fino a fare azione ok nel mio bonus quello sei video per il network ti spiego esattamente ti mostro il mio sito ti faccio vedere il mio sistema che ho usato e come duplicarlo ma è veramente senza prezzo Simona fidati dammi fiducia vai all in adesso ed è la miglior scelta della tua vita te lo garantisco ok complimenti a Manuela che è andata all in grande Manuela grazie di cuore ok stavo leggendo le domande su Facebook mettendo se il settore benessere quali video devo vedere alla salvatore ti vai a vedere la parte su Google che la dicevo prima è dal video aspetta ti vai a vedere la parte su Google per vendere prodotti di benessere fondamentale Google dalla lezione 38 alla lezione 50 dalla lezione 38 alla lezione 50 poi ti vai a vedere il bonus sul network che è il primo dei bonus alla fine del corso sono sei video scusami non è il bonus sul network ti vai a vedere il bonus sulle attività tradizionali e ti insegno proprio come fare una ricerca di mercato per capire le parole che cercano prodotti di benessere la gente esattamente cosa cerca quindi immaginiamo che tu vendi prodotti per dimagrire e scopri che la gente cerca voglio dimagrire di 5 kg allora tu gli fai apparire un annuncio che gli dice esattamente quello la gente dice wow c'è l'annuncio esattamente per quello che cerco ci clicca va a vedere e pum gli vendi il tuo prodotto questo qui è un po' quello che insegno lì Matteo dice non dichiarate niente raga tutto in nero grandissimo così si fa ok Roberto chiede sono andato lì 12 giorni fa è possibile avere fattura? ora si Roberto scrivi al supporto di Marketing Genius va bene? scrivi al supporto di Marketing Genius e te la facciamo se avete bisogno di fatture ragazzi se è andato all in per l'azienda per chi ha partita IVA per chi gli serve scrivete al supporto di Marketing Genius gentilmente Fabio mi metti l'email del supporto support chiocciola bsupergenius.com allora ragazzi io direi che è tempo di salutarvi passo la parola a Fabio per gli ultimi saluti intanto preparo il video cosa dici Fabio? io ti mando il link su Facebook quindi vai su Facebook ah si? allora aspetta eccolo qua eccolo qua eccolo qua allora vado a aprirlo al volo eccolo qua allora grazie per aver visto questo webinar chiaramente questa è la porta di ingresso principale per entrare in Marketing Genius da super all in o da persona che prende in mano la sua vita prende queste informazioni e spacca tutto in Marketing Genius ci sono due persone due tipi di persone il corso è uguale per tutti questo parliamo di corso all in ok il corso di digital marketing di più grande successo mai visto là fuori ok il corso di digital marketing più venduto in Europa nella storia che ha cambiato più vite nella storia se non ci chiedi guardati intorno fai due domande in giro guardati i video online perché qui parliamo con la verità ok non abbiamo bisogno di mentire perché non lo facciamo per soldi io e Matteo Pittaluga abbiamo già passato questa fase penso che quando arrivi al punto di fare le cose per aiutare gli altri di fare progetti così grandi che neanche tu sai se ce la puoi fare ma in realtà ce la possiamo fare perché ce la stiamo facendo adesso succede tutti i giorni persone normali che diventano straordinarie grazie alla guida di centinaia o migliaia di persone che sono nello stesso percorso puoi fare due cose prenderti queste informazioni non aprire mai il corso e lamentarti che non funziona perché sei tu che non fai un tubo oppure prendere in mano queste informazioni fare come quelle persone che abbiamo mostrato questa sera alcuni delle centinaia di storie di successo che sono successe in Marketing Genius che succedono tutti i giorni ti assicuro che non avremo spazio per ore per raccontare tutte le storie di successo perché una persona prende queste informazioni e non fa una lira e un'altra persona prende queste informazioni e fattura centinaia di migliaia di euro beh una cosa fa la differenza il tuo compromesso la tua disciplina e l'azione che fai e il fatto di andare all in ok non è un caso che in Marketing Genius sia questa cultura degli all inners chi ha questo braccialetto al polso vuol dire che veramente è in missione per cambiare qualcosa nella sua vita se invece pensi che gli altri ti cambieranno la vita senza che tu sia quello che prende in mano il tuo destino e fa azione allora sei nel posto sbagliato se invece pensi il contrario benvenuto in Marketing Genius ti lasciamo con questo video che è stata l'emblema di un viaggio verso la libertà in cui abbiamo conosciuto tantissime persone di valore una di queste è diventato nostro partner non so per quanti anni ci cambierà sicuramente il business David Brownlee che è stato presente con noi a Roma il re del customer service a livello mondiale uno speaker di fama mondiale che si prende su da Los Angeles viene a Roma solo per vivere anche lui in prima persona un'atmosfera magica ti lascio alla visione di questo video seguici una cosa importantissima ragazzi una cosa importantissima ragazzi per chi non è riuscito ad andare all in entro la fine del webinar scrivete un'email al supporto va bene Fabio gentilmente scrivi in chat l'email del supporto l'email è su penso che anche un un sordo muto l'abbia capita ok quindi scrivete al support chiocciola bisupergenius.com va bene support chiocciola bisupergenius.com per chi non è riuscito ad andare all in entro la fine del webinar e vi rispetteremo i bonus se andate all in anche nella giornata di domani però scrivete un'email al supporto adesso almeno sappiamo che eravate al webinar e vi rispetteremo i bonus anche domani un abbraccio grande ragazzi chiudiamo con il super video oh 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 Matteo ma che macchina prendiamo non lo so al mustang dove è finito il mustang non ce l'abbiamo più il mustang è inverno non possiamo andare allora jippazzo arancione jippazzo arancione io voto jippazzo arancione io invece voto questa macchina io voto questa macchina qua questo jippazzo malato questo è un cesso sì ma chi se ne frega questa sembra la camionetta con cui questa è quella cattivissima a me questa piace sembra la camionetta dell'esercito con cui ci portano via i criminali vediamo questa cattivissima oh ragazzi lo so che sembra banale perché l'abbiamo già detto mille volte però è la verità venire agli eventi ti cambia la vita te la sconvolge il problema qual è è che non è ancora finito l'evento e già hai voglia di tornare a casa per lavorare ok quando tu vai in vacanza normale cioè per staccare da una vita che non vuoi vai in vacanza e poi ti sei dispiaciuto quando te ne devi andare via invece quando vieni a questi eventi e ti fai una vacanza mista business ma vieni in un posto così raccogli delle idee degli schemi delle strategie non vedi l'ora di andare a casa per metterti a lavorare 24 ore al giorno per spaccare e per portare il business al next level esatto ma in questo evento purtroppo ragazzi non c'era nessuno quindi adesso torniamo in questa sala piccola ciao ciao ragazzi siamo qui a Las Vegas con il nostro caro amico David Brownlee how are you man? fantastic ok abbiamo il piacere di passare un po' di tempo insieme e che dire David è veramente gasatissimo è super carico per l'evento di Marketing Genius a Roma adesso gli farò una serie di domande importanti David sei carico? are you excited? I'm very excited anytime I'm going to Rome I'm getting excited I'm getting excited ok so what are you bringing to our community I mean what's your goal? what are you sharing with us? what are you teaching in this training to all the community that we have yes well first of all thank you for inviting me because I love going to Italy I love the warmth of Italians I love the passion and so thank you from the bottom of my heart my pleasure this is going to be this is going to be amazing so there's three things that I really want your audience to get the first thing is mindset right I worked for a guy named Tony Robbins for a number of years and one of the things I learned from Tony is that 80% of success starts in your mind right and 20% are the skills right so what I want to bring is hey no matter if you have a dream and you have something that you want to go for we need to take care of your mindset to make sure your mindset is in alignment with whatever it is you want to accomplish absolutely important that's the first thing and so I think that's so important to build a foundation the next thing I want to bring are the actual skills right how do you build relationships with your customers so that they'll tell all their friends and family to come do business so that they promote instead of you I mean yeah so that they're promoting for you right and how do you have to make them feel right how do you make your customers feel and there's some there's some really easy secrets that are very simple to do but you know I want to make sure that they know that and then the third thing is I want to give them an experience right so one of my favorite poets he's gonna give us an experience yes and one of my favorite poets is Maya Angelou and she says that people will forget what you said Michael Angelou Maya Angelou Maya Angelou and she said number one people will forget what you said people will forget what you did but they'll always remember how you made them feel so I want your audience to feel that hey this is possible for you right once I have the tools I can build out my dream and accomplish my goal and that's what I want to really thank you so much so yeah I don't think I don't think I don't think I don't think are you also going to share your story with us absolutely because I know he has a very strong story David has a really story that he doesn't have time to share with all of us so thank you man I can't wait to see you in Rome you too man ok ciao ragazzi a presto